Il mondo delle professioni associative si è incontrato oggi a Roma per parlare di occupazione, innovazione, benessere e crescita. L'iniziativa organizzata dal Colap, il coordinamento che conta più di 200 associazioni, ha visto la partecipazione di tante figure professionali come i traduttori, manager, pedagogisti, statistici, informatici. Un settore in crescita da quanto emerge da un'indagine che rappresenta il 14% della forza lavoro che produce il 4% del PIL. Il 73% dei professionisti ha conseguito la laurea e il dottorato di ricerca e di specializzazione.